Uno dei complimenti che mi fa più piacere è quando mi dicono che questa squadra trasmette emozioni. Nasce un po' dalla mia storia. Quando ho indossato la maglia azzurra è difficile toglierla per sempre. Questa immagine da dove l'avete presa? Sono partito con l'idea di creare un gruppo giovane per fare la storia della nostra federazione. Abbiamo concentrato tante energie su pensare a che squadra volessimo essere. Avevamo lasciato un solco ben chiaro e importante. Cercare un nostro percorso, cercare una nostra storia. Stare così tanto tempo insieme ha creato un legame unico. Il gruppo è la chiave del nostro successo. Il bello di questo gruppo è proprio questo, che fuori dal campo ci divertiamo molto. La famiglia. La vita di un atleta non è fatta solo di schiacciate, di muri. Poi alla fine ti rimane quello che hai vissuto nel viaggio con questi ragazzi. Mi ha fatto qualcosa di incredibile. I brividi si sono sentiti. L'Italia è per la quarta volta campione del mondo, come nel 1909, come nel 1994 e come nel 1998. Zorro, torniamo a vincere il mondiale. Benvenuti al Quirinale, campione del mondo. Un lungo abbraccio azzurro. Un sogno, un sogno che è stato pazzesco. Un sogno, un sogno che è stato pazzesco. Un sogno. Un sogno.